E' tempo di duellare ancora una volta The King of Games, il re dei giochi Ciao a tutti ragazzi, un nuovo episodio di The King of Games Oggi vi andiamo a presentare la bustina che troverete andando a vedere il film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Ebbene, nei cinema aderenti all'iniziativa potrete trovare questa bellissima carta esclusiva dell'evento Obelisk il Tormentatore, attributo divino, 10 stelle, divinità bestia e effetto Questa carta può essere utilizzata nei tornei ufficiali di Yu-Gi-Oh! e nei duelli C'è anche la versione da collezione che è quella blu Attacco 4000, difesa 4000 Richiede 3 tributi per essere evocato normalmente, non può essere posizionato normalmente L'evocazione normale di questa carta non può essere annullata Quando viene evocata normalmente non possono essere attivate carte o effetti Non può essere scelto come versaglio da magie, trappole o effetti delle carte Una volta per turno, durante la end phase, se questa carta è stata evocata specialmente, mandala al cimitero Puoi offrire come tributo 2 mostri Distruggi tutti i mostri controllati dal tuo versario Questa carta non può dichiarare un attacco nel turno in cui viene attivato questo effetto È davvero bellissima Un artwork spettacolare In versione rara oro segreta Proprio come le bustine Movie Pack Che trovate nei migliori negozi Detto ciò, abbiamo una sorpresa Ci sta per chiamare qui Yugi Muto Che non sarà muto per l'occasione Quindi, vediamo se lo abbiamo al telefono in collegamento Ehi Luca, sono Yugi Ciao, re dei giochi! Quanto tempo! Il tuo film è al cinema proprio in questi giorni, sei ancora in forma? Ehm, sì, anche se è da un po' che non gioco Sai, con Joy e Tristan non c'è storia Ma dimmi un po', questa nuova evocazione dimensionale del film, com'è? Hai presente i primi episodi in cui evocavate tutti i mostri che volevate senza attributi? Ecco, circa quello, ma scoprirai di più nel Movie Oh mamma, se arrivasse nella vostra dimensione non mi immagino il caos che andrebbe a crearsi Ora toglimi una curiosità Nell'illusione oscura sono usciti nuovi mostri mago Ma sono neri! Che stregoneria è mai questa? Avevano finito l'inchiostro colorato Sono gli XYZ, Yugi Gli evochi dal tuo extra deck come le fusioni Sovrapponendo, generalmente, due mostri in campo con lo stesso livello In caso ti passo il numero di Yuma, dopo Grazie! Xyz Al tempo del Duel Monsters erano le carte di Kaiba A proposito, ho visto che lui si è appassionato alle Duel Runner E sta implementando i mostri grigi nel suo extra, i sincro Sì, in Vittorie Brillanti sono uscite nuove carte Drago Bianco Tra cui un fortissimo sincro I mostri grigi si ottengono con un mostro tuner più un mostro non tuner Che sommati raggiungono il livello totale del mostro che vogliamo evocare dall'extra Semplice, no? Oh mamma, quante novità E l'evocazione Pendulum come... Ehi, che fai? Ciao Luca, non ti preoccupare, adesso gli insegno la Pendulum Ho già studiato tutte le nuove meccaniche e tattiche Devo solo comprare il nuovo Structure Deck Yugi Anche se ho sentito la telefonata di Kaiba Lo trovo ancora disponibile Faraone, finalmente Chi non muore si risente Certo che lo trovi Anche se abbiamo avuto qualche problema a contenere l'ire di Kaiba Che tipo? Perfetto Perché ho un conto in sospeso con quel gradasso Non si deve permettere di avanzare certe richieste Ora vado a riposarmi E non per sempre, tranquillo Ci rivediamo presto Forse... Al cinema Ciao Luca Ci risentiamo presto Ciao ragazzi Accidenti È sempre difficile parlare con Yugi e il Faraone Non si sa mai se usare il singolare o il plurale Vabbè, fortuna che nel film non dovranno fare Xeed, Pendulum o Syncro Siamo salvi Bene ragazzi Spero che questo siparietto vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Ricordatevi di vedere gli errori e il backstage esclusivo di Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Nelle nostre pagine Yu-Gi-Oh! TCG Italia e The King of Games su Facebook Trovate i link originali su Dynit e su Nexo Digital Detto ciò, vi rimando al prossimo video E ci vediamo E mi raccomando andate al cinema a vedere Yu-Gi-Oh! il 10, l'11 e il 12 marzo 2017 Ciao e alla prossima Ciao a tutti ragazzi Nuovo episodio di The King of... Ciao a tutti ragazzi Bye! Mamma mia Ciao a tutti Ciao a tutti Ok dai forse ce la facciamo adesso Ciao a tutti ragazzi Non so cosa mi prende oggi So solo che non riesco a fare un video sensato Ciao a tutti ragazzi Nuovo episodio di The King of Games Oggi vi andiamo a presentare la bustina speciale che troverete andando a vedere il film Mm... Pique a tutti Il re dei giochi